Ciao amici, uno sguardo alla rubrica del collocamento dei piccoli annunci di Radio Bellagio in onda sulle nostre frequenze tutti i giorni intorno alle ore 8, 11, 18 e 20. Le vostre inserzioni sono gratuite, potete farcele prevenire chiamandoci in redazione allo 031 950 477 oppure inviando una mail a radiobellagio.it e se poi vi interessa qualche numero di telefono in particolare e non avete fatto in tempo a prenderne nota potete collegarvi al mio sito cosmobellagio.com e cercare la rubrica del collocamento piccoli annunci nella sezione dedicata al collocamento. Iniziamo, signora italiana offresi come babysitter in zona Mandello Lario 32 88 74 96 56 è stata sottratta, in parole semplici rubata, una pianta di limone a Samolaco in località Giumello questa pianta ha un grande valore affettivo e c'è anche una ricompensa a chi la ritrova e la riporta allora chiamate per informazioni il 33 56 94 44 42 vi risponde il proprietario allora poi pizzaiolo tunisino cerca lavoro 33 37 33 94 26 cane setter inglese bianco maschio di due anni e mezzo cerca casa e compagnia 33 9 14 36 6 3 2 gattino persiano maschio color grigio perla cerca casa 32 88 11 20 99 a colico c'è chi vende una stufa pellet 33 31 30 91 30 un'occasione ragazza 33enne seria e referenziata con 11 anni di esperienza cerca lavoro come badante colfa con vitto alloggio in zona bellagio como lecco 32 00 73 80 11 vende un cellulare lg 34 27 73 88 44 affitto ad ongo un appartamento arredato 45 metri quadrati vista lago chiamate il 32 85 78 57 30 vende un appartamento in mansarda in val di sotto vicino bormio 95 metri quadrati semi arredato con due camere due bagni cucina tinello ripostiglio e box auto chiamate il 33 34 58 54 01 affitto a sondro in sondro centro un appartamento di 80 metri quadrati con garage 39 39 39 24 42 78 cerco lavoro in val chiavenna di qualsiasi genere 0 3 4 3 39 17 6 cerco lavoro come badante o dog sitter in zona lecco 34 27 73 88 44 35 anni di morbenio cerca lavoro come cameriera con esperienza di sale e bar 34 34 07 50 95 09 vendo una compostiera nuova mai usata 20 euro 0 3 4 1 70 0 9 0 3 vendo un rustico ad ongo tre piani in centro vista lago con terreno in vicinanza 33 31 00 48 17 ed infine cerco lavoro come badante o lavapiati aiuto cucina provincia di sondro 32 0 6 45 35 26 vi ricordo ancora se c'è qualche inserzione che vi interessa e non avete fatto in tempo a prendere il numero di telefono potete riascoltare questa rubrica sul mio sito che è www.cosmobellagio.com nella sezione dedicata al collocamento buon proseguimento sulle frequenze di radio bellagio ciao buon proseguimento sulle frequenze di radio bellagio buon proseguimento sulle frequenze di radio bellagio